Ehi, è un po' che non ci si sente, ma è perché ci sono delle cose che sono successe ed altre cose che... È un po' che non ci si sente, però l'importante è che siamo ancora qua e già. E come al solito la prima domanda a cui possiamo rispondere è che questo è Yakuza Like a Dragon, noto anche come Yakuza 7, noto anche come Ryuga Gotoku The Whereabouts of Light and Darkness, che è tipo il sottotitolo originale in giapponese. Ed è super edgy, ed è incredibilmente edgy, però in ogni caso... Ha visto che ho cominciato il discorso subito, sì, rimestiamo un attimo le carte, facciamo che parlo proprio immediata subito di Kasuga Like a Dragon. È l'altro nome non ufficiale, però questo è uno dei nomi strani, particolari, che ha dato... Come si chiama? Cromazio? Come si chiama? Marco Pacciani? Sì, il patriarca della famiglia Pacciani. Io sono appuntato capitano, ma vabbè, queste sono altre cringiate nostre. Still, l'ho praticamente appena finito. Appena. Meno di 24 ore fa, infatti. E forse provvisoriamente, forse no, l'ho messo comunque in un tier abbastanza alto della mia tier list personale degli... Come fai a dire tier list oggettiva? Sì, tier list oggettiva degli Yakuza. Yakuza e Judgment, ma vabbè, insomma, forse ora vi metterò uno screen sullo schermo di quello che ho postato su Discord, anziché ho sempre aggiornato su Discord. E come vedete, in cima in cima ci sono Yakuza 0 e Jimmy Judgment. Proprio lui, perché sì, ok, ci sono state forse un po' più cose che mi hanno snervato in Judgment rispetto a 0, però comunque meritava di stare lì. Nel rango A, però, c'è Yakuza 4, che effettivamente forse sposterei in B a pensarci, però, guarda, c'è anche Kiwami 2, che è Possibly Subject to Change, e Kasuga Like a Dragon, perché sì, effettivamente è stato molto bellino, molto pazzesco. Anzi, ci sono dei plot twist all'interno che potrebbero concorrere per i migliori di tutta la serie, sono veramente molto belli e molto ben gestiti. Alcuni forse hanno lo stesso livello di bullshit, insomma, di certi plot twist di Yakuza 4, però sono sicuramente meno scemi, mettiamola così. Sono un po' più... Ah, ma guarda un po', che casualità! Era proprio una possibilità su 10 miliardi! E guarda qua, invece quelli di Yakuza 4 sono semplicemente... Scemi! Quindi, sì, insomma, probabilmente Yakuza 4 farebbe un tier più in basso. E farebbe compagnia a Yakuza 5 e ad Isshin, che è letteralmente Yakuza 5, però con le spade. Ma, insomma... Nella partita che vedete adesso di Kasuga Like a Dragon, io sto per affrontare un dungeon intero, poi forse in post-produzione lo sposto, lo metto... Ma, in ogni caso, la post-produzione la devo fare tipo tantissimo, perché non voglio che vediate gli altri membri del party. Perché sì, ce ne sono altri, sono in totale 7, vero? Sì, Yakuza 7 ha tanti membri del party, ha 7 membri del party, uh, di cui questa qui, Eri, è segreta. In teoria è segreta, nel senso che non si incontra nella storia, poi ovviamente non finirà in nessuna cutscene, perché lei non è prevista. Però sì, esiste ed è anche fottutamente OP. Gli altri membri del party, però, no, non voglio farveli vedere, perché sono spoilerini potenzialmente, anche per, in un caso forse, c'è modo di pensare, tipo stare a ragionare e a rovellarsi il cervello pensando che, oh no, ma quindi questo personaggio l'abbiamo già visto, zan zan zan, però se, ecco, ci sono spiegazioni per un po' tutto. Sono spiegazioni strane, però ci sono. Non so dirvi se sono proprio convincenti, però sicuramente sono posti in maniera molto convincente, che è una cosa che, narrativamente parlando, però, a livello di gestione della narrativa, la gente che scrive Yakuza lo fa molto bene, devo dire. Molto bravi, molto bravini. Ma non stiamo ancora affrontando l'elefante nel dungeon. L'elefante nel dungeon è che, eh, questo non è uno Yakuza, eh, le recensioni su Steam sono tipo, alcune sono veramente così. Molte meno di quante pensavo, onestamente, sono un po' sollevato da questo. Poi se facciamo un confronto su quale community, fra quella internazionale e quella italiana, dice più spesso, gna gna gna, ma non è uno Yakuza, è indovinate quale lo dice di più, infatti è anche per questo che lo sto giocando in inglese, sto scherzando, lo sto giocando in inglese, solo e solamente perché, da quando Sega si è messo a fare le traduzioni in italiano, non tutte le riescono molto bene, mettiamola così. Ora, quel di persona, salvo alcuni errori che però sono abbastanza imperdonabili, perché proprio non ti fanno capire delle cose, della dinamica di gioco, cose come, stai per acquisire questa mossa, questa mossa fa danno a tutti i nemici, e poi quando la utilizzi scopri che fa danno a un nemico solo, ok, quello forse è un conto. In particolare però, con la serie Yakuza, dopo aver giocato a Isshin, mi è toccato giocare a Isshin in italiano, perché dal Game Pass non c'era modo di cambiare lingua, sul gioco non c'era modo di cambiare lingua, mentre su Steam puoi fare proprietà, cos'è, settaggio, psindabino, non mi ricordo che cosa, selezionare la lingua in inglese che ti scarica il pacchettino proprio, dall'app del Game Pass questa cosa non la puoi fare, infatti benedetto anche Gaiden, the man who raised his name, che ti permette di selezionare la lingua all'inizio. Still, in Isshin, vai a vedere le traduzioni sono fatte col culo, ne parlavo anche nell'episodio dedicato, nel primo Answer, seconda stagione, se vogliamo chiamarlo così, in cui effettivamente mostravo proprio Isshin, parte di Isshin. Anche Judgment l'ho giocato in inglese e sono tutte quante opportunità per ripassare e rinvigorire, rimpinguare, anzi, il vocabolario, il lessico inglese. Ed è una cosa molto utile per quello che farò e che mi servirà fra un pochino, spero, entro la fine di quest'anno. Non è nulla di realmente segreto, cioè lo vedrete, dovete vederlo, ecco. In mio caso, per tornare un pochino sui binari, il sistema JRPG in Like a Dragon, Yakuza 7 ti è? Non mi è dispiaciuto così tanto, onestamente, anche perché il sistema di combattimento va bene, è quello che è. Tutto il resto, però, è inequivocabilmente Yakuza, l'esplorazione della città, pure le missioni secondarie tutte wacky, silly, goofy questlines, yeah, mostrano veramente il marchio di fabbrica di Ryuga Gotoku Studio, quindi comunque belle cose. La giustificazione in lore, in game, è veramente, è una cretinata, ma è troppo divertente, è semplicemente che Kasuga, il Ichiban Kasuga, il protagonista, è fissato matto con Dragon Quest, quindi vede le cose a turni. È totalmente schizofrenico, questa cosa viene effettivamente ripresa in tante altre conversazioni nel gioco, specialmente tipo all'inizio, in cui gli dicono proprio, ma scusa, perché ogni volta che combatti sembra che aspetti che l'altro si tiri su, aspetti che ti attacchi, ma perché è così che funziona, no, con, se vuoi fare l'eroe, è come in Dragon Quest. Tu ti, immagina il mafioso, proprio ben messo di costituzione, con il tatuaggio di un dragonfish sulla schiena, che ti dice questa cosa, soltanto per giustificare il fatto che non sta lì a pestare come la carne, una persona che, vabbè. ma questo è quanto per Kasuga, mi è durato tipo, tra le 75 e le 80 ore, in sostanza, ci sono anche dei momenti in cui Mortangueri, il gioco veramente dice, non ti dice anzi, parma, farma, che è bene, ma sei obbligato a farlo a un certo punto, minimo, perché il mio modus, l'udendi, è ripulirmi, le missioni che trovo sulla mappa, nel caso di un gioco a capitolo, oppure semplicemente nell'area in cui si svolgono le missioni principali, nel caso di altri giochi più massivi, e poi mi faccio la main quest, perché sia mai perdo qualcosa, sia mai vanno avanti i capitoli, poi c'è il personaggio che magari ti fa il quest giver che muore, o se ne va contro di te, qualunque cavolata, insomma, e mi perdo la side quest, questa cosa mi rompe un pochino, quindi mi faccio l'ottoquanto in Yakuza, faccio qualche minigame, insomma, che comunque i minigame non danno esperienza, il tipo battle experience, o che non aumentano il tuo livello, il livello del personaggio, dei membri del party, o dei lavori, dei mestieri che assegni ai membri del party, perché anche loro hanno dei livelli, però per ogni location del gioco, insomma, ti mettono un dungeon, ripetibile, dico va bene, sono a livello 50, no, non so, ero a livello 45, va bene, andiamo avanti con la missione, e trovo il boss di livello 50, d'accordo che è un boss, ok, ed era un 1 contro 4, quindi, anche piuttosto fair, se non fosse che era un boss molto, ma molto potente, che poi ha summonato degli scagnozzi, mettiamola così, e poi ha summonato anche l'amico suo, pur lui di livello 50, quindi mi hanno aperto il culo, finché non ho farmato, l'ho messo lì, e sono tornato a livello 52, e poi li ho aperti io, ma basta con questo Ichiban Simulator, e passiamo alle domande vere, a rapidamente potrei rispondere effettivamente a... perché era già stata fatta una domanda del genere, una volta, soltanto che la mia era stata una risposta veramente vaga, del cacchio, perché diceva, non ho veramente un protagonista preferito, ed effettivamente non è ancora così, che ho detto, però ho menzioni d'onore sicuramente a Kazuma Kiryu, e probabilmente anche a Goro Magima, anche se era di un solo gioco, che è stato per metà protagonista, ma ok, sono letteralmente personaggi anime, soltanto che il primo direi per lo stoicismo, che dimostra in tipo tutte quante le situazioni possibili e immaginabili, e il secondo banalmente per la sua evoluzione, o meglio, le ragioni della sua evoluzione, e poi fra tutti gli altri... ma probabilmente il mio non morto prescelto di Dark Souls, cioè Slavsy Sluck. Come mi trovavo con le console, come quando e perché ho deciso il passaggio al PC, anche di queste effettivamente ne avevo parlicchiato nel video, quindi trasformerò questa domanda in... eh, comunque è bel soprannome. Un discorso più attuale sulla diatriba console PC. Quest'anno sono dieci anni che ho il PC, e l'ho fatto perché non volevo perdermi tutte le cose che ci si perdi, se si gioca unicamente su una console, che praticamente al tempo comunque dovevo chiedere ancora, devo stare lì a... per favore, vi prego. Peraltro l'approfondimento su quella parte c'è circa un terzo, o metà, qualcosa del genere, del video sul mio rapporto con Assassin's Creed e la fanbase di Assassin's Creed, ma in definitiva era tutta una prospettiva per il futuro, perché non devo essere necessariamente legato a un cambio netto, se devo giocare a giochi di una generazione successiva, non devo riesumare altre apparecchie, se devo giocare a cose di una generazione precedente, ho tutta la libertà del mondo quanto a periferiche, quanto a settaggi grafici, intendo, e poi, naturalmente, come tutti quanti ci aspettiamo, volevo giocare a dettagli massimi a Far Cry, Far Cry 2 e Crysis. L'ho fatto ovviamente, ma non è per questo che ho preso il PC. Ho preso il PC per centralizzare, praticamente, centralizzare tutto, quindi è la stessa piattaforma che uso per giocare, la stessa piattaforma che uso per studiare, e per fare ricerche di questo o quel tipo. Di tutti i motivi per cui si prende un computer che non sia semplicemente ci gioco e basta, metti praticamente tutto quello dell'insieme, le cose che fai con le console, incluso giocare, guardare film, che altro si fa sulle console? Adesso c'è Discord, prima non c'era, vabbè, ma capirai Discord, c'era su PC. Non paghi l'online, ci sono i bundle, ci sono i prezzi più convenienti, puoi craccare, puoi farci video. Non hai la minata di dover scegliere fra la modalità qualità e la modalità performance, puoi avere quello che ti pare, come ti pare, anche una via di mezzo, anche giocare a 45 fps, tiè. Che effettivamente è come giocavo io a Far Cry 4 all'inizio del 2014, perché era ottimizzato con il culo! Culo! Anche Fallout 4 l'anno dopo, veramente. Che schifo, avevo scaricato anche la mod che praticamente imbastardiva le texture, perché erano ingestibili, quindi era ingestibile proprio tutto il fottuto gioco su PC, quindi vabbè, almeno aiutava la workload. E naturalmente per tutte le cose che su, non so, su una PS4 non puoi giocare, tipo Splinter Cell, credo non si possa giocare a nessuno Splinter Cell su PS4, perché non, Blacklist non è uscito cross-generazionale, è uscito soltanto su PS3, vero? Quindi manco Blacklist, ma in ogni caso attualmente, visto che parlavamo anche e soprattutto di attualità, e questa è una cosa che di recente ha fatto anche Raiden, ha fatto un piccolo discorso anche Raiden su Twitch mi pare, e poi l'ha trasportato su YouTube, se non fosse semplicemente questione di soldi, di investimento maggiore o minore, che poi alla fine il computer ti costa di più all'inizio, ma ti costa meno on the long run, ok? Ma se non fosse questione di soldi, console o PC? Perché l'argomentazione è vabbè ma con la console metti il disco dentro e giochi e sti cazzi non devi pensare a niente, non l'ho mai accettato, penso sia proprio inaccettabile, perché non è vero che sul console non devi pensare a niente, anche loro hanno gli aggiornamenti, non avrei tutti gli aggiornamenti che hai su PC, perché con l'aggiornamento del sistema operativo, l'aggiornamento del gioco in sé, e vabbè, l'aggiornamento del driver della scheda video, l'aggiornamento del client ritorno, l'aggiornamento dell'applicazione che utilizzi per gestire la velocità delle ventole a seconda della temperatura, tutto quanto, sono comunque cose che si fanno in maniera molto automatica e spesso e volentieri non ci vuole neanche tanto tempo, che poi, gli aggiornamenti del firmware ci sono anche sul console, quindi non è che sia poi tanto questione di la eliminate con gli aggiornamenti, l'eliminate capitano su tutte quante, su tutto quanto gli hardware, punto. Ne hai in misura minore sul console, ma finisce letteralmente lì, eh ma con la console cioè ti metti lì spaparanzato sul divano e non pensi niente. Oddio, l'avresti mai detto che si può fare comunque la stessa cosa, puoi mettere letteralmente il pc al televisore, al plasma 50 pollici, adesso non ci stanno più i plasma, ma vabbè, mi avete capito. Lo metti lì, l'unica cosa diversa magari è che non accendi la console, accendi il computer con il tasto del pad, magari non ci devi, non ci puoi navigare sul pad all'inizio, però l'avresti mai detto che all'accensione del computer molti client si avviano da soli insieme al computer, quindi non devi neanche avviare lì, io lo faccio però semplicemente una cosa in più, e puoi letteralmente accendere il computer, cliccare sul gioco, sull'icona, sul desktop, e poi metterti spaparanzato sul divano nello stesso modo con il pad. Andando avanti, giuro che non l'ho fatta apposta a infilare Kiryu, Maggi, ma il Kasuga, Like a Dragon nello stesso fottuto video, non ci ho pensato effettivamente. Hai mai commesso in passato crimini videoludici? Non si intendono dei crimini impreciso scritti a qualche parte sulla rete, ma quelli che per te attualmente, secondo me, mi pensavo sono crimini. E effettivamente ho dato una piccola risposta preliminare, ma gradirei espandere un minimo. E sì, io ho preordinato, anche io, l'ultima volta nel 2013. Basta. È un crimine videoludico? In quest'epoca? Sì. La cosa più divertente poi di quando qualcuno cerca di dirti no, no, invece sì, preordinare è bene, giusto, non è sbagliato. È che ha ragione se solo vivessimo in un mondo, insomma, in cui preordinare effettivamente è un bene e non si viene fregato ogni tre per due. Ma abbiamo già fatto molti di questi discorsi e onestamente ripetermi no, ho deciso di essere come la radio, non mi ripeto. Ho ripetuto un sacco di cose che ho già detto in altri video qui, ma un'altra volta la cosa dei pre-order no. No. La versione essenziale è pre-order bad. Se lo volete veramente a tutti i costi aspettate le recensioni e aspettate non solo recensioni della stampa, addio Cristo, aspettate uno, due giorni dopo il day one e poi via. Perché, ma non so, almeno vi assicurate che non sia Redfall, che non sia Cyberpunk del 1977, che non sia Gollum, che non sia Anthem, Wolong Fallen Dynasty su PC soprattutto, il Portrait of the Last of Us parte 1 su PC soprattutto, Fallout 76, Battlefield 2042, Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Unity pre-patch, comunque anche post-patch non è che si, Watch Dogs pre-patch e pure post-patch pure lui non è che sia proprio un campione, Assassin's Creed Valhalla soprattutto su console Sony perché per qualche ragione lì non avevano cagato una falla importantissima che cancellava i salvataggi. The Day Before, che bello The Day Before, che bella merda che è stata The Day Before. Microtransazioni? No, non l'ho mai comprata, fottetevi. Dare soldi a Ubisoft? Sì, anche questa, molte volte, mi dispiace. L'ultima volta che l'ho fatto però è stato marzo del 2022 perché ho preso Far Cry 6, l'ho pagato anche in meno della metà, non ho preso nessuna edizione speciale, soltanto la standard e mi sono in parte anche sentito derubato. O no, forse no, a giugno di quello stesso anno mi pare ho dato 6 euro a Ubisoft perché c'era una promozione ongoing che tipo a spendere almeno 15 euro nello store ti abbonava immediatamente il discount di 10 euro e ne ho approfittato per prendere Assassin's Creed 1 e giocarlo in live, Origins e giocarlo in live e Valiant Hearts e giocarlo in live e sì, è stata l'ultima volta. Craccare dei giochi? Mmm, potrei aver mai craccato dei giochi? Come me lo giocavo Pandora Tomorrow? Come me lo giocavo Splinter Cell Pandora Tomorrow? Altrimenti? Forse era meglio non giocarlo, più che altro perché Morgan come doppiatore italiano del cattivo non... forse non... beh, insomma, è stato come il doppiaggio di Dario Argento in Dead Space 1 non il remake quello originale o Asia Argento in Mirror's Edge che meraviglia questa... o probabilmente anche cosa? Anche... come si chiama? Gabriel Garco? Era Gabriel Garco quello che addoppia del principe di Prince of Earth in Warrior Within? Spirito Guerriero? In ogni caso, sì, lui merda. Era... era quell'epoca spassosissima. E poi ovviamente ho caraccato anche altro. L'unica cosa che mi pento di aver caraccato era un indie Undertale solo che poi con un bundle l'ho riacquisito non l'ho attivato non l'ho mai previsto di rigiocare Undertale perché poi mi sono visto tutte quante le cose sulla pace Viste la Genocide e tutto quanto quindi l'ho semplicemente regalato e ciao posso dire di aver comunque ottenuto una copia di Undertale legit. Ah, e sì all'inizio ho craccato anche The Witcher 3 avevo questa storia molto triste con The Witcher 3 perché prima di tipo aprile del 2016 forse era gennaio febbraio non mi ricordo forse un pochino prima non avevo ancora trovato modo di connettere il pad il pad della PS3 al computer quindi c'è stato questo momento in cui ho fatto la parte tutorial di The Witcher 3 craccato con la tastiera che è tipo impensabile adesso ma in realtà ho visto tanta gente online che l'ha giocato con mouse e tastiera ma il motivo per cui avevo inizialmente droppato The Witcher 3 in quel momento non è stato per i comandi era stato perché non mi stava prendendo non mi stava interessando gran peccato che effettivamente ha cominciato a prendermi a interessarmi quando l'ho rigiocato quando l'ho riprovato con il pad della PS3 ad aprile marzo-aprile 2016 più che altro la parte interessante cominciava proprio dopo il tutorial quindi ops ma vabbè è stata un'acquisizione legale tant'è vero che poi mi sono fatto pure dlc a proposito di dlc di the witcher 3 non so quanto minchia deve essere una madonna deve essere dieci madonne insieme shadow of the earth 3 di elden ring per poter superare blood and wine come dlc l'altra mia vera e propria espansione preferita di un dlc ecco è il destino di atlantide di odyssey perché veramente anche solo per i campi lisi poi c'è anche le parti dopo che non sono affatto male sono molto belle ma non direi che sopra blood and wine sicuramente è il mio secondo preferito anche mettendo in conto un farcadre 3 blood dragon che non è un dlc è un dlc stand alone è considerato proprio un gioco a parte ma vabbè se per questo anche miraggio no vabbè lui è un'altra cosa e basta non so quanto tempo è passato meglio so dalla registrazione ma non so quanto verrà lungo il video però direi che è il momento di lasciarci e se stare dormendo e vi siete addormentati adesso vi canterò baka mitai con la voce più profonda che riesco a tirare fuori stavo scherzando però buonanotte ci si vede anzi ci si sente che riesco a tirare fuori con la voce che riesco a tirare fuori